Un'operazione di fermo svolta in tempi brevissimi. Il nucleo operativo dei carabinieri di Firenze con un blitz è riuscito a sgominare una banda composta da quattro uomini di origine albanese, tutti pregiudicati, specializzata in furti in abitazione. Negli ultimi tre mesi ben 26, i colpi accertati portati a termine anche se, osservando in maniera fedele il modus operandi della banda, le infrazioni commesse potrebbero raggiungere o addirittura superare quota 40. Si tratta appunto di una banda di almeno quattro persone che in maniera guardinga, soprattutto al calare del buio, prendono l'autovettura rubata, recandosi sul posto con l'autovettura invece di pulita e si recano, fanno itinerari di alcune ore in cui battono per lo più frazioni dei comuni di Firenze. De veri e propri raid, dunque quelli messi a segno dal gruppo dei quattro che operava non solo nel capoluogo e nelle limitrofe province ma anche in tutta la Toscana. La banda agiva in modo organizzato cambiando spesso quartier generale per non dare punti di riferimento e sempre secondo la stessa modalità d'azione. Seguono le stesse modalità, al calare del sole prendono la macchina e iniziano gli loro raid per poi tornare al fine di questi raid, riorganizzare l'area furtiva e tornare nelle loro basi che cambiano spesso proprio per evitare di attirare attenzione. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Fiorentino, ha consentito quasi in tempo record di arrivare all'individuazione del sodalizio criminoso ed in seguito all'arresto dei componenti dell'organizzazione. Fortunatamente, poco prima che i quattro uomini riuscissero a lasciare l'Italia per tornare nel paese d'origine. Si procede al fermo immediato di uno dei componenti a Pisa nei pressi dell'aeroporto dove si era recato per prendere la moglie per poi allontanarsi e degli altri tre in due domicili diversi dove avevano fatto per questi giorni la loro base logistica.